Oggi voglio parlare della questione del padre, perché è evidente che siamo in un'epoca tutti quanti in cui il problema dell'assenza del padre è il problema della solitudine. Sono Carlo Arrigone, sono uno psicanalista. Ho detto assenza, non ho detto mancanza. Assenza perché i padri sono assenti, perché al loro posto ci sono i papà. Allora non bisogna confrontare il padre con il papà. Non è una questione di legami di sangue, è una questione di padre, cioè autorevolezza. L'autorevolezza è di chi è autore di qualcosa, cioè ha generato qualcosa nella tua vita. Non è un problema biologico, è un problema di generazione di un pensiero, di una conoscenza, di una competenza. Allora se noi ci sentiamo soli è perché non riconosciamo il padre. C'è qualcuno che dice non ho mai conosciuto mio padre. Ormai capita che sei stato cresciuto solo dalla madre, oppure i genitori si sono separati, oppure il papà è venuto meno per una malattia, per qualsiasi motivo. Ma il padre non viene meno. Il padre è con te. Perché il padre è chi ti ha insegnato qualcosa, cioè ti ha dato qualcosa che è rimasto dentro di te. Il padre è quello che ti ha insegnato ad andare in bici. È una presenza nella tua vita che tu puoi riconoscere e ricordare e fare tua. Tutte le volte il padre è quello che ti ha insegnato, che ti ha lasciato qualcosa che è dentro di te e che rimane per sempre. Addirittura il padre può non essere uno solo. Sei tu che devi riconoscere il padre. In quella persona. Uomo o donna che sia, non importa. In quella persona che ti sta insegnando. Il padre è un concetto di eredità che non ha niente a che fare con i soldi, che non ha niente a che fare con le proprietà che ti ha lasciato. L'eredità è quello che tu hai ricevuto da questa persona che è padre. Allora, se tu riconosci questo, non sei solo. Non sei solo perché sei in compagnia di quella ricchezza che questa persona ti ha dato. Queste persone ti hanno dato. Magari sono più di una. Allora, il tema non è se tu non hai mai conosciuto tuo padre. Devi cominciare a conoscerlo. Devi cominciare a riconoscerlo. Devi cominciare a guardarti intorno e riconoscere che tu, quello che sei, l'hai ricevuto da qualcuno. Quello che sai fare, le competenze che hai. Il padre è quello che ti ha insegnato ad andare in bici. Quando eri piccolo e avevi voglia di andare in bici, c'era il problema di togliere le rotelle. Il padre è colui, o colei, potrebbe benissimo essere stata una donna, non importa, che ti ha sorretto mentre tu facevi i primi tentativi e a un certo punto ti ha lasciato andare, anche se tu avevi paura di cadere. Ti ha fatto coraggio. Il padre è questa cosa. È quella presenza che è sempre con te, che ti fa coraggio. Se tu riconosci questo, non sei solo. Il padre è quello che ti ha insegnato a pensare, che ti ha dato dei valori in cui credere, che ti ha valorizzato per quello che eri. Lascia perdere quelle persone che ti angosciano, che continuano a farti dei ricatti affettivi. Tu pensa a riconoscere il padre. È tutto qui quello che comincerà a farti sentire meno solo. Pensaci. Pensaci.